Lo so che avete un sacco di pane secco Potremmo farci il pangrattato e invece no E sta ricetta si chiama davvero in mille modi A seconda della regione Qui si chiama pancotto ed è facilissimo Praticamente è solo pane secco e brodo Il piatto povero di così Sale, pepe e olio E a volte per avere ricette buonissime non servono neanche ingredienti strani Se avete voglia potete dirmi come si chiama lì da voi È buonissimo, super economico e velocissimo Allacciate il grembiule e provatelo anche voi